Se volete acquistare i crediti di FIFA Points a pressi bassi dal sito più veloce al mondo nella consegna passate da IGVOLT con il link e il coupon in descrizione Buona prima ragazzi, qui già stessi e siamo tornati con questo nuovissimo video Ma prima di iniziare, prima di fare proprio l'intuitività di che video si tratta anche se avrete letto dal titolo Ci tenevo a ringraziarvi per i 50.000 iscritti Farò uno speciale ve lo prometto anche se non sono solito farli perché come dicono in molti tutti i miei video sono speciali Comunque appena mi parla di qualcosa di carino originale lo farò Quindi state sintonizzati perché ve lo annuncerò ovviamente nei video precedenti Se ci sarà bisogno anche della vostra partecipazione Comunque come avrete visto quest'oggi vi porto una finale del draft Perché faccio molti draft, vi piacciono però vi porto raramente draft giocati Dato che questo draft è una squadra sinceramente una sorpresa perché non mi aspettavo di arrivare in finale con questa squadra Ho deciso di portarvela, vi faccio vedere innanzitutto la squadra che è questa qui Che è qualcosa di spettacolare signori C'è un'ibrida che ho fatto io modestamente perché sono un grandissimo intenditore No vabbè, per te scherzi L'unica pecca è Torgan Hazard davanti ma mi ha fatto pure un gol mi sembra Vabbè manco si può vedere, vaffanculo E poi abbiamo Daclas Costa e Ronaldo signori Vabbè, un centrocampo anch'esso molto molto buono devo dire Ok, avversario trovato, questo c'ha tre attacche della tenza quindi si può giocare signori Perché è una finale che l'haga soprattutto mentre registro non si può vedere Andiamo a vedere la sua squadra, sicuramente Liga PPA guardate Che vi ho detto? Una squadra devastante, la Jun pure terzino sinistro La vedo veramente dura L'unica pecca è quel difensore centrale di cui mi sfugge il nome Che non penso sia eccezionale, quel centrocampista sempre del Porto Porco 2 Per il resto è un attacco devastante quindi dobbiamo stare attentissimi in difesa Sono tentato di andare subito in difensiva fin dall'inizio però me la voglio giocare Quindi saremo in equilibrate, vediamo un po' che cosa succede Ronaldo, 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 Ronaldo Ancora una serie di finte, Ronaldo, Ronaldo Prova a centrarsi, ancora Ronaldo Ancora Ronaldo, infermabile Infermabile C'è il gol, c'è il gol signori, c'è il gol Porca puttana Ronaldo è infermabile, questo è anche forte a giocare signori Vabbè ma l'abbiamo visto l'attacco che ha lui Eeeh signori adesso è tutto in salita fin da subito Ma con questa squadra è già tanto che sono arrivato in semifinale in realtà Perché è una squadra molto modesta Dobbiamo cercare di beccarlo alla sprovvista Con questo tiro da lì Che gol La riapre subito Tiago se non erro Tiago la riapre Che gol sotto al set signori Al dodicesimo la riapriamo Siamo ancora vivi Fabio Siamo ancora vivi Guardate che gol No ma guardate che gol Si libera e scarica al destro sotto l'incrocio Gol bellissimo La riapriamo Tiago la riapre lui Ok ora tranquilli attenti Abbiamo visto che lui a difendere non è che sia un fenomeno Però ad attaccare La salunga signori Ad attaccare la salunga Dobbiamo essere carichi Concentrati Ripartiamo adesso ancora col contro piede con Tiago 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 ancora per Daga scosta La palla che è buona Douglas 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 Prova il tiro Uh Uh Qua l'abbiamo sorpreso L'abbiamo sorpreso perché siamo stati rapidi Ronaldo ancora prova L'1-2 Cazzo Attenzione qua la ripartenza Ah prevedibilissimo sto passaggio Ma ci ha fregato lo stesso C'è Felipo Luiz Il gol incredibile Il gol incredibile Signori Peccato 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 Quel passaggio era super prevedibile Ma ci ha fregato Avevamo un buco enorme in difesa Cazzo Qui è un buco assurdo Il difensore centrale era uscito completamente Qua un gran gol Ci ha avuto fortuna comunque Il nostro portiere c'era anche Ma l'ha messa talmente perfetta Che era impossibile da parare Signori Peccato Fine primo tempo signori Partita combattuta come potete vedere Ce la possiamo fare signori Devo giocare un po' di più su Ronaldo Intanto qui si è fatto notte tutto insieme Hazard Torgan Douglas cost Anzi no è Vidal È Vidal È Vidal È Vidal Non può andare al tiro È tutto chiuso Filippo Luiz Filippo Luiz Prova il cross La palla per Torgan Hazard Che si girano Fuori Era perfetta Torgan Hazard si è fatto vedere Porca troia Lo so che ce la possiamo fare Lo so che ce la possiamo fare Basta Un po' di volontà signori Un po' di fortuna Un po' di volontà Un po' di fortuna Forse un po' di troppe cose Che gol di merda Ma che gol di merda è La potevamo riaprire signori La potevamo riaprire Un gol scandaloso Deviato dal Manco lo so io Chi cazzo l'ha deviato Signori Peccato Poteva essere Una gran cosa Poteva essere una grande vittoria Peccato Peccato Con una squadra non eccezionale Eh Signori Abbiamo combattuto Con gli unghie e con i denti Ma la nostra versata è stato superiore Sotto tutti i punti di vista Eh Gol incredibile Peccato Peccato Dopo Dopo il 3 a 1 Siamo morti Siamo morti signori Peccato Peccato Grande squadra Il nostro avversario Molto forte Noi con la nostra squadretta Abbastanza modesta Giusto qualche sostituzione Abbiamo di giocatori forti La partita finisce qui Peccato 4 a 1 Inmeritato Sconfitta Inmeritata Ma 4 a 1 Inmeritato Troppo severo Il nostro portiere Che è stato un fenomeno In tutte le altre partite In questa partita 5 tiri 4 gol L'ha preso Vabbè Comunque Andiamoci ad aprire i pacchetti E vediamo un po' che cosa troviamo Ok Andiamo a vedere che cosa Ci sono nei pacchetti C'è nei pacchetti Insomma Giocatori uno primo Pacchetto uno primo maxi Abbastanza schifoso Mi aspettavo qualcosa Un pochino meglio Vabbè Comunque signori Mi dispiace Che vi porto una finale Dove ho perso Però ci sta anche Portare le sconfitte Non solo le vittorie E quindi Anche se bisogna Non porto vittorie Però vabbè Quindi vabbè Magari adesso Ci andiamo ad aprire anche un draft Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di carino Ovviamente pacchetti scandalosi Manco l'entrata del draft Mi sono ripreso Manco i 15.000 crediti C'è qualcosa di scandaloso Andiamoci ad aprire rapidamente Il draft Ok signori Squadra creata Una squadra forte Full Bundesliga Con Müller Tots E in generale 4 Tots Comunque Più altri 3 blue In panchina Vabbè Comunque una buona squadra Comunque io spero che il video vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel mi piace Mi raccomando Mi dispiace Che abbiamo perso Soprattutto che abbiamo trovato un cazzo nei pacchetti Ma quello si sa Ormai è Da consumituni Comunque con quella squadretta modesta Non potevamo niente di che Poi il nostro avversario è molto molto forte Complimenti a lui Come ho già detto Ci vediamo al prossimo video Vi invito a lasciare un bel mi piace Per il sito di credito In descrizione Per i vostri crediti Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao